Ciao FoodSpringers, come va? Allora oggi volevo parlarvi proprio di un nuovo prodotto di FoodSpring, non è un nuovo concetto in assoluto perché i tea talks e tutte le persone che usano le tisane per perdere peso non è niente di nuovo onestamente, però è nuovo per FoodSpring e di conseguenza andiamo a vederlo insieme, facciamo una sorta di deboxing insieme per aprirlo, allora volevo prima innanzitutto parlare del design perché devo dire che questa brocca per fare il tè con il vetro, ci sono due camere, non so se riesci a vedere le due camere in questa c'è un vetro dentro il vetro, un vetro temperato che ci permetterà di preparare le nostre tisane, lo trovo bello come design proprio di FoodSpring, c'è legno, c'è il nostro cestello in metallo, c'è il nostro vetro, doppio vetro vogliamo dirlo, si apre e si aggiungerà all'interno in questo piccolo contenitore il nostro tè e poi le verseremo il caldo, diciamo l'acqua calda sopra. Ci sono tre tè che arrivano insieme, uno si chiama morning, uno all day cleanse, uno delle evening per dormire, così sono tre diversi momenti, uno per caricare, poi uno per proprio aiutarci a detossificare il corpo, e questo è estremamente importante, quasi più importante secondo me è il detox che pensare alla propria dieta, perché? Perché quando i filtri del corpo, ossia il fegato e i reni funzionano in modo ottimale, anche il metabolismo funziona meglio, ok? Perché i reni aiutano proprio a eliminare i liquidi in eccesso, anche le scorie in eccesso, il fegato è il filtro numero uno del tutto il corpo e poi il fegato è anche responsabile del deposito e della metabolizzazione dei lipidi o dei grassi, così è molto importante tenerlo performante. Mi metto i miei occhiali da maestrina. Andiamo, avete il morning energy, che vuol dire l'energia della mattina, tè verde, lemongrass, zenzero, la scorza di limone, elderflowers, non mi chiedere che cos'è un elderflower, che in inglese, in italiano non lo so, la verbena, guarenà, ammacciati, pepe rosa e mate verde, la mate verde organica, che è veramente l'erba mate, dà tantissima energia. Siccome è un po' tardi in pomeriggio, non lo prenderò questo, però andiamo a aprirlo per voi, ok? Chiuso ermeticamente e vedete, vengo più vicino, vedete, c'è proprio l'erba dentro, ok? Figo, eh? Eccoci qua, così, è un vero e proprio tisana, vero e proprio di queste erbe che ci aiutano, puoi ritrovare il nostro equilibrio durante l'arco della giornata. All day cleanse, questo mi piace da morire, perché sono fissato con la desintossicazione, perché desintossicazione, ti ho detto, eccellente per il corpo. Qui abbiamo lemongrass, il tè o'long, il tè verde, pezzi di zenzero, pezzi di arancio, nettle leaves, nettles are una sorta di erbaccia, i nettles, però è eccellente per aiutarti proprio, infatti di solito questi gli danno l'effetto proprio di aiutarti ad evacuare con più regolarità. L'ho detto bene, eh? Ok, e poi andiamo, moringa, canella, curcuma, perché lo sto traducendo in tempo reale, perché questo è scritto in inglese, dandelion e terassago, cardamomo, tulsi, di nuovo abbiamo pepe rosa, erba mate verde, e cornflower blossoms. Ah, che bello, cornflower blossoms. Andiamo anche qui, aprire. Ok, apriamo. Più o meno il, uh, cornflower blu, perché i cornflowers sono i fiori del mais e sono blu, ok, qui. E questo è quello che vorrei provare in questo momento, perché adesso intossicare mi piace da morire, così prendiamo il nostro, il nostro intingolo, lo mettiamo dentro, ok, l'abbiamo messo dentro, ok. Che cosa? L'ho fatto giusto? Ok, e adesso lo facciamo passare l'acqua. Siete pronti? Ho già fatto preparare l'acqua bollente, e andiamo a versare l'acqua sul nostro tè, e piano piano lo possiamo portare con noi. Poi l'altra cosa, mi piace questa confezione perché, oltre ad essere veramente bello, perché non lo vogliamo anche portare con noi? Io invito di lasciarlo stemperare, ok, proprio a rilasciare tutto il loro effetto, benefici lì, per noi, ok. Lo metto bello dentro, ok, e lui sta là. Poi magari la possiamo portare con noi a sorseggiare, perché quanti di voi non bevete durante l'acqua del giorno? Io, occhio croce, secondo me questa, le conteniture più di 500 ml, secondo me è quasi 700 direi, perché è bella capiente, ed è importante bere l'acqua durante il giorno, perché noi siamo 70% d'acqua, è importante per dare, diciamo, il ricambio di acqua fresca, per poi eliminare le scorie che sono purtroppo intasate di detriti metabolici, tossine e quant'altro, e andiamo a leggere quello che ci danno per la sera, ok? Evening Relax, per rilassarci, è molto importante, ricordate che siamo programmati per dormire 30% della nostra vita, così, 8 ore al giorno dovrebbe essere passato a letto, ma 8 ore al giorno dovrebbe essere passato a letto dormendo, non 8 ore e mi giro e penso, mi sveglio, vado in bagno, torno in bagno, vado in cucina, mangio qualcosa, ritorno a letto, poi ci penso e poi ci sogno, noi abbiamo bisogno di calare in un sonno profondo, arrivare al livello 4, che è la parte più profonda del nostro ciclo del sonno, quando noi produciamo la GH di notte, durante la fase più profonda della onda delta del cervello, in quel momento, quando nessuno si muove a letto, quando sta proprio steso sul letto e il tuo compagno, tua mamma, tuo papà, tuo figlio non si muove, non sta muovendo gli occhi, non sta sognando, quello è il momento del sonno più profondo, ok? E quello è molto importante, ci arrivi soltanto due volte a notte, le prime due cicli del sonno, molto importante arrivare e rimanerci per quei 2-3 ore, perché quello è il momento che ci ricarichiamo, ci rigeneriamo, ci ripariamo, ok? Perché la GH è l'ormone della crescita, o l'ormone della ricrescita, come lo dico io, e qui abbiamo, ok, abbiamo zenzero, melissa, licorizia, verbana, arancio, malva, tarassico, lemongrass, carote, uh, tulsi, che non lo so, coriandolo, e cloves sono, aiutami, cloves con, sono i chiodi di graffano, eccolo qua, chiodi di graffano, lavanda, e peperosa. Andiamo a aprirlo, e vediamo che ci abbiamo dentro, e di nuovo, come potete vedere, è un miscuglio, veramente di erbe, cioè proprio di erbe secche, che noi possiamo andare a utilizzare, a una tisana, le tisane sono molto antiche, le loro usanze, le più bravi erano i preti, i preti, i frati, facevano tutte queste tisanerie, che aiutavano le persone a ritrovare, la salute, la forma fisica, di sintossicare il corpo, dormire bene, risvegliare meglio, insomma, anche posso dirti un'altra cosa, è una scusa di bere, perché molte persone non bevono abbastanza acqua, ci permette di portare la nostra tisana con noi, ok? E passiamo una giornata, sorseggiando la salute, e questa è una novità di Foodspring, e ricordate che potete comprare i prodotti di Foodspring, utilizzando la mia codice sconto, GIL YT, condividete questo video sul vostro baccheca, e mi raccomando, provate Foodspring, perché vuol dire tante salute, e in questo caso anche per gli occhi, perché l'oggetto di design è molto bello, un bacio a tutti quanti, passate un mese favoloso alla ricerca, alla rassegna della salute, e non dimenticate anche di seguire tutti i miei video qui, per allenarvi, perché ci sono centinaia di allenamenti, per allenare tutte le parti del corpo, e tenervi in forma anche sotto le feste, un bacio dalla GIL, passate una giornata splendida, ciao! Grazie!